ciao ragazzi siamo tornati da Renatino al ghetto quanto ci sei mancato oggi è il nostro anniversario qua c'è sta camicia, dove stai? bella Ria, qua già ci hanno offerto l'hummus e vi faremo vedere i piatti che prenderemo questa sera anche se non c'è più Stefanino lo chef ma ce n'è un altro gallardissimo, già sono sicura che mangeremo stra bene come sempre sarà una piccola mini recensione visto che già l'abbiamo fatta a loro però vi faremo vedere i nostri piatti ciao a dopo ma giusto nell'attesa dei primi meravigliosi che fanno qui abbiamo preso un fritto della tradizione che c'è il baccalà pastellato fiori di zuccheri pieno e carciofone alla giudia ma che glielo vuoi dire? ciao ragazzi lo chef ci ha offerto uno spaghettino orata e limone, assaggia Camì qua dico, buono? ok quello è mio, credo mangia per due guarda non ci facciamo la scarpetta solo perché sennò non mangiamo il resto ma questo sarebbe proprio da facciare la scarpetta con un pezzetto di pane però vabbè camicia se leccherebbe pure il piatto guardate qua che cosa che cremetta che c'è stato sti piatti un po' di carbonara, fettuccina, funghi, carne secca, comodorino, confi c'è camicia si è presa la carbonara e sta mangiando la pasta mia, poi voi dite che com'è? la tua? buon'ultima bravissimi, non ci deludete mai stasera ci stanno trattando da re cuore gente pacchero vellutata di zucchine e spicola vai Camì perché ero indecisa da prendere questo e allora ce l'hanno fatta assaggiare com'è? buono eh delicato ah è bottarga anche è bottarga è più scelente da paura raga noi continuiamo a dirvi venite qui a parte è bella passeggiata estiva al ghetto, a Trastevere poi vi fermate da Renatino al ghetto e vi mangiate tutte queste cose noi continuiamo a papparci queste cose buonissime a dopo e a noi piccolo dolcetto finale ci sta bene no? latte di soia, fragoline di nemi buon appetito e tanti auguri a noi e viva Renato al ghetto vabbè inutile che vi diciamo che è buonissimo già lo sappiamo, lo conosciamo bene questo soddisfatto? la carbonara niente, la camicia viene qua per la carbonara cioè l'usa la sogna la notte ragazzi pure il carciofo aggio vabbè un po' tutto però carbonara se la sogna la notte quindi bravi, bravissimi ed eccoci qua soddisfatti sempre qui da Renato al ghetto beh io non faccio testo eh però siamo pieni è magnata buona, buona venite qui da Renato al ghetto vabbè già la sapete perché già avete visto l'altra recensione però vi lasciamo tutti i dati con scritto telefono per prenotazione e l'indirizzo è tutto ciao da culo e camicia siamo tornati vittoriosi e pieni e incinti ciao io sono solo pieno come il rapio ciao ciao